andiamo alberto io ti amo io ti amo alberto io ti amo io ti amo incredibile uno che sa battere i rigori e ne batte due belli secondo centrale a mezza artezza come l'avrei voluto mi batte sempre io nella mia vita io di umano fossi rigorista centrale a mezza artezza tutto sotto la traversa tutti tutti cazzo se vivo incredibile se vinto una partita vaffanculo una fatica una fatica allora bisogna giocare da ora in poi perché intanto indietro ogni tempo non si può tornare sfortunatamente da ora in poi si deve giocare come se è giocato in primo in secondo tempo con la solita fame con il fatto che l'è entrato godbunson finalmente perché bove in tre quarti non si può guardare perché si impegna corre ogni tanto recupera un paio di palloni ma bove oggi un fantasma meglio nel centrocampo c'è stato un momento in cui raffaele ha cambiato moduli io all'inizio di secondo tempo non avevo capito come si stava giocando ho detto si gioca a quattro in difesa ma c'è scusa c'è colpani entravo a me ma non c'è bove no ma aspetta lo scio biraccio anche martinez qua un casino ed ha funzionato ed ha funzionato ha funzionato ha funzionato perché siamo stati più pericolosi più pericolosi in area più pericolosi perché poi parliamoci chiaro comunque non è nonostante la vittoria si è giocato male perché ha giocato molto meglio la lazio molto meglio la lazio noi decisamente abbastanza bene non decisamente bene abbastanza bene nel secondo tempo perché comunque si è creato diverse occasioni da gol moise henne si è mangiato un gol di un'altra volta dopo quella con in monza se non sbaglio un'altra volta di testa tu per tu praticamente a un metro dal portiere tu per tu col portiere a un metro dal portiere clamoroso clamoroso dodoglia l'aveva messa lì non doveva nemmeno sartare praticamente fra un po mi primo tempo colpani stava per segnare anche te cazzo perché ti ma ci si mangiano i gol a tu per tu con il portiere poi fa un miracolo provveder coi piede e la palla finisce sul palo poteva entrare va bene però cazzo a tu per tu con il portiere e non ci si può mangiare i gol in questa maniera se ha sette già i sette metri di porta davanti poi nei tu piede però porca puttana bisogna bisogna segnarli sti gol vaffanculo godo vaffanculo si è vinto ragazzi incredibile incredibile contro la lazio ve l'ho detto ieri nel pre partita serviva serviva come veramente come l'aria come l'aria in una stanza che non viene aperta da cent'anni questi tre punti perché te giocavi poi a firenze a prescindere con tutte le buvole per ridare un po di fiducia all'ambiente contro la lazio che è una tua diretta concorrente la lazio è una tua diretta concorrente se te ci vinci c'hai guadagnato sei punti non tre c'è una guadagnati sei capito quindi contentissimo contentissimo si è fatto fare il primo gol in serie a a chi l'ha però va bene lasciamo perdere deghe ragazzi madonna ragazzi che bella avere un portiere così che bella avere un portiere così che bella avere un portiere così vaffanculo quanto tempo è che non ci sapeva un portiere di genere quanti anni son passate qualche intervento magari un pochino in qualche d'uno forse poteva uscire il pallone che poi l'ha parato di vendusì l'ha tirata praticamente il famoso campaline in aria porta vuota Pogba ma lì in quel caso c'era Comuzzo che l'ha levata poi tra l'altro Comuzzo ragazzi madonna Pietro Comuzzo quanto sei forte quanto sei forte vaffanculo quanto sei forte io la difesa io allora Raffaele Raffaele io biraghi braccetto in difesa non lo voglio più vedere non lo voglio più vedere è il mio capitano benissimo tutte le buvole ma non lo voglio più vedere basta basta e anche Martini Squarta si deve dare una svegliata perché Martini Squarta nel primo tempo un dramma un po' fa rigore perché fa fallo a Zaccagni così è l'angolino dell'area di rigore così così è mancato per prendere rigore il quinto minuto in generale malissimo nelle marcature come sempre quindi Martini Squarta se vuole se vuole riprendere un pochino risalire la china deve un attimo stare attento e fare molto meglio di così poi oggi è la difficile perché la Lazio attacca con tantissimi effettivi si chiude tutti insieme perché Baroni gioia così Baroni si chiudano tutti insieme e quando ripartano ripartano in dieci perché ripartiva Dià ripartiva Isaksen ripartiva chi cazzo ce l'avevano ripartiva Tavares anche da dietro poi nel secondo tempo ripartiva Zaccagni ripartiva anche Chaunari tutti tutti quando ripartono ripartano ripartano in venti c'è anche Gendusi partono tutti insieme quindi chiaramente te che poi tu c'hai una difesa traballante è stato un miracolo che oggi sia finita solo con un gol della Lazio perché alla fine poi anche loro hanno preso una traversa con Gendusi quindi in generale è sembrato un pochino che la Lazio si fosse noi l'anno scorso cioè quelli che prendano quanti calci d'angolo ha preso la Lazio 200 cioè incredibile è incredibile che per una volta per una volta dalla parte bene siamo noi che lì di là che si riesce a finalizzare le poche occasioni che ci si è avuto anche se vi ripeto ci siamo mangiati un paio d'occasioni belle ma proprio belle belle apparecchiate lì per te belle belle ma l'importante è che i due rigori che c'erano entrambi nettissimi tutte e due si siano segnati madonna albert che esordio che esordio bello ma poi a prescindere dai due gol bello si girava madonna non gli hanno levato il pallone una volta un po un pochino magari un po sudice le ripartenze quando si cercava di ripartire dalla difesa qualche pallina un pochino data male ma per il resto benissimo per il resto benissimo oh maremma cane ragazzi contento contento veramente finalmente tre punti che cazzo ma affanculo almeno almeno adesso cominciamo a risalire un attimo cominciamo a risalire un attimo perché bisogna assolutamente continuare in questa maniera ve l'ho detto come il secondo tempo ripartiamo da questo secondo tempo con magari questo cambio di formazione particolare che ha diciamo avuto il suo discreto successo con gudmonson titolare con un colpani un colpani che nel secondo tempo nonostante i suoi soliti errore e il fatto che fisicamente è veramente una mezza sega però qualche poco il minimo in più almeno si è riacceso ok perché andrea non gli lascia sai con e e non si può far giocare con e quindi o tutti svegli te perché sennò come si fa a far giocare i con e titolare i con e va bene da riserva va bene la riserva perché frizzantino ti dà quella quel dribbling in più che oggi tra l'altro non è arrivato ma di là vi ripeto ci avevi comunque anche diciamo diamo anche le attenuanti a colpani oggi mettiamola diamoglielo una volta le attenuanti c'era Tavares Tavares ragazzi gran giocatore Tavares gran giocatore conosce la premier insomma lei è un giocatore importante che corsa fisico insomma anche superarlo in velocità anche Dodò c'ha avuto qualche difficoltà anche se Dodò ormai il pendolino ragazzi devastante devastante Dodò ragazzi anche lui un terzino finalmente contro Ioni lì e dall'altra parte Gosens finalmente ragazzi mamma mia respirate si respira un attimo a 6 punti no incredibile fatemi sapere la vostra sotto nei commenti sempre forza viola e domani come sempre live reaction ciao ragazzi